La lista del nuovo centrodestra costituente popolare alla provincia non è detto che appoggerà il candidato presidente a Stolfi. Perché? Allora, innanzitutto è una lista formata dal nuovo centrodestra, dagli amici del consigliere regionale amico Mauro Di Almazio, dagli amici dell'Udc e dai socialisti. Non è che noi non appoggiamo il candidato a Stolfi, non ci siamo ancora seduti a tavolino per fare una valutazione di questo genere. E' chiaro che per appoggiare un candidato comunque ci deve essere un'intesa, quando queste verranno valutate valuteremo sicuramente noi. Il nuovo centrodestra è un partito di centrodestra come lo è stato da sempre, insomma la nostra formazione politica. Ma Stolfi non era il vostro candidato ideale? No, noi sul candidato abbiamo lasciato la scelta libera a Forza Italia. Allora perché questa indecisione adesso? No, non c'è un'indecisione, c'è una valutazione che ancora non è stata fatta. Nel senso che chiaramente nel momento in cui si deve fare una scelta bisogna sedersi a tavolino e fare delle valutazioni. I candidati però sono solo due. Sì, però... Tanto mi dà tanto se la scelta e l'appoggio non andrà su a Stolfi, andrà sul candidato del senso sinistra. No, no, la scelta si fa sui programmi. Io invece vorrei puntare fortemente su quello che è la nostra lista, una lista forte, di grande rappresentazione territoriale. Abbiamo i candidati eletti nei vari comuni con il più alto numero di voti, a cominciare dall'amica Luciana Di Marco, di Silvi, oppure dall'amico Guerriere di Campri, a Vagnoni, oppure a Ciapanna, piuttosto che Nadia Baldini che è la più votata a Mociano. Insomma, abbiamo tantissimi nomi, abbiamo fatto una lista molto forte. Un boccalupo e un ringraziamento va all'amico Walter Catara.